Lo so che è un lavoretto mediocre. Sicuro. Se vuoi lo rimandiamo? No, questa volta preferisco finire tutto. Ah, scusa un attimo. Torno subito. Marty, che dici? Ne approfittiamo per andare a mangiare qualcosa? È quasi l'una, a me è venuta fame. Sono d'accordo, Viviana. Non è una brutta idea. Possiamo provare al bar qui all'angolo, che hanno appena aperto. Va bene, dai. Avverti Guido. Avvertirmi di cosa, scusate? Andiamo tutti a mangiare nel nuovo bar che hanno appena aperto. Scusate, ma non c'era un lavoro da finire? Ho capito tutto. Andiamo a mangiare, forza. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A volte sono proprio un'ingrata. Sai, lei è così carina con me e Sara e invece io... Comunque adesso è tutto risolto.